Nella scorsa puntata Che cazzo è? Uuuuuh Buono Per un minuto Una chiave al collo c'è questo Ah qui veramente Ah con la manovella scelta qui Bene ragazzi sono passati due giorni Da quando ho giocato l'ultima volta E allora Andiamo su play Normale La modalità normale Ho fatto molta fatica perché le assi scricchiolano Comunque ho giocato un pochino Vi ho tagliato tutte le parti Perché ho giocato un'eternità Al video durava troppo Ho scoperto come si usano Tutti gli oggetti per scappare Magari adesso riusciamo a scappare Allora qui ho letto bene Se leggete c'è scritto Attenzione che Granny sente tutto Grandpa invece non ha un buon udito Ma colpisce duro Il nonno non sente tutto E questo può essere un vantaggio Perché se facciamo casino almeno viene solo uno Ma anche uno svantaggio perché Non sappiamo le sue mosse Se proviamo ad attirarlo Non siamo sicuri che arrivi Quindi io adesso sono su normal Proviamo a scappare di nuovo Ho sentito una campanellina Ecco ogni tanto si sentono queste campanelline Non capisco perché Comunque ho trovato sta tattica Io lo schiaccio due volte Così se il nonno non sente la prima Sente la seconda E ci nascondiamo qua dietro Così abbiamo il piano di sopra libero Eccolo il nonno Manca la nonna Che sta arrivando La sento Eccola lì Ok Andiamo di sopra Esploriamo un po' Questa casa Dice Voglio giocare a nascondino Subito Ok ha fatto rumore Quindi arriveranno O tutte e due O solo uno Questo E ora manca la nonna però Rumore Eccola E già ce li siamo tolti per un minuto Che non è poco Allora nonno Mi devi dare la chiave che hai sul collo Ok ce l'abbiamo Esploriamo un pochino Qui c'è la carne Che non so come si usa Io preferisco sempre Uccidere lo sgorbio Che c'è fuori Buono piede di porco Buono buono Molto buono Allora Apriamo qua Bot key Ok Ributtiamo questo Guardiamo qua Il fusibile di ghiaccio O come si dice Ok abbiamo il piede di porco Ecco fatto rumore I nonni in teoria spavano in camera Penso Non lo so dove spavano Penso che si siano svegliati adesso i nonni Ah giusto La trappola No no Apriamo di qua Buone le cutting pliers Allora questo ci serve ancora Io li riattiro qua Buono così Eccoti I see you Perfetto Allora la nonna Mancherà mezzo minuto Il nonno invece Ho flimizzo ancora per un po' Gasoline canno Ok io proverò a scappare dalla porta Questa è fondamentale La Wipon key Distogniamo per un minuto in più con quella Andiamo Questo qua si usa Qui Buono Siamo molto attenti Fatto il rumore Brutta mossa Ok Non ci posso credere Non ci posso credere Ce l'ho fatta Ad attirarli di là Non ci ti amo Cioè Non Non gufiamo No Non ci ti amo Buono Oh cazzo No Non mi ha sparato Ok va bene così La webcam Mi è caduta E quindi Devo Rimetterla in su Cazzo Mi sono nascosto in tempo Ho sentito tanti passi 10.000 Ne ho sentiti Giuro Ne ho sentiti troppi Arriva anche la vecchia No Mi sa che mi ha visto Dai nonno vieni Perfetto E adesso sono fuori gioco Entrambi Qui io avevo aperto Infatti è aperto Ancora Allora Andiamo su Vediamo Buona quella Qui Devo sparare lì Ce l'ho fatta Bene Ok Li guardiamo dopo Ci dovrebbero essere Le cutting flyer Non so se sono già svegli Però qua dovrei essere Al sicuro Teoricamente Allora Qui E qui Questa è buona Buona Apriamo sotto Sempre più in alto Ok Io prenderei prima questo Questa si può aprire solo da fuori Ma questo Poi andare di qua Mi sembra serve per l'elicottero Adesso vabbè Non mi interessa Oh cacchio Oh cacchio No No Chiudi Giù Ok Mi ha visto la bastarda Merda 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 No Non m'hai visto Andarmene di qui Adesso aprirà Non mi chiudo Guardali Tutte e due là Guarda Chiudi Chiudi E ridono Chiudi Ma che cazzo dice il nonno Sta a cantare No 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 Correre 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 Cazzo Non mi hai visto Andare sotto Quindi Via Via Non puoi stare E andare via E' lì Ok Attiriamo lì di là E' molto utile Poterli attirare così Loro mi danno la caccia di là E io vado su E siuppate Il piselino Il nonno ha detto Vuoi giocare? No Non voglio giocare Tu sei un vecchio Eccola qua Attiriamoli E poi ce ne andiamo giù Dentro Abbiamo il fucile Ragazzi Ma morite Dov'è il nonno? Coglione Mori Carichiamo Andiamo a uccidere Lo sbocco Che è fuori Ciao Slendrina Sei incazzata? E' un figlio di merda No Non mi serve Questa Ok Cosa c'è? La maniglia Della porta Manca solo la padrock key E siamo fuori Dobbiamo andare su E prendere la safe key Allora Carichiamo Buttiamo di sotto lì Vai giù Vai giù Bravo La safe key La safe key era qui Dov'è? Forse più in qua Dov'è? Dov'è la safe key? L'ho persa L'ho persa Eccola Meno male Secondo i miei calcoli Dovrebbe esserci La padlock Dentro Dai Granny Suka Sì Togliamo questo Qua Ce l'abbiamo fatta Sono fuggito Ce l'ho fatta Sì Guardali 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 Funzioni Ce l'ho fatta Sono riuscito a fuggire In Granny 2 Fatemi sapere nei commenti Se volete altri video del genere Noi ci vediamo in un prossimo video Entro sul picco Comun cazzo di passo Con gli occhi sbarrati Beviamo 14 shot incastrati Lasciamo al locale dei conti salati Il mio figlio è che a tombe Le bombe già sa Da che finiamo nei commissariati Direbbe finiscono a morte ammattati Riporto alle madri dei coppi ammassati Stamnetta Ote wasabi Voi sei tu tutti incazzati I miei fratelli